Dalla strada al mondiale di carta da oggi è possibile. Come? Ve lo raccontiamo tra pochissimo. Dalla strada al mondiale di carta da oggi è possibile. Infatti grazie a Karting Operazione Trionfo il vostro sogno di diventare un vero e proprio pilota potrà finalmente essere realizzato. Però io prima come al solito vado a salutare Riccardo Scarlato. Buonasera Francesca, ben ritrovata oggi una puntata che sicuramente può interessare anche a te perché grazie a Karting Operazione Trionfo anche la nostra Francesca Agnati può davvero mettersi al volante di un kart. Non con le scarpe di Sailor Moon. Infatti mi stavo proprio chiedendo ma posso partecipare con queste scarpe fucsia? Ma oggi c'è i superpoteri, serve veramente Sailor Moon. Beh bellissimo, sicuramente apprezzeranno i nostri telespettatori come apprezzerà anche il nostro ospite che andiamo subito a presentare. Assolutamente, oggi con noi in studio abbiamo l'artefice di questa fantastica realtà e con noi Gianluca Giacchetto il patron di Karting Operazione Trionfo. Buonasera Gianluca. Buonasera a tutti. Buonasera Gianluca, ben ritrovato. Allora Gianluca Giacchetto dovete sapere che è stato qui da noi nei nostri studi televisivi proprio a fine 2018 quando il progetto Karting Operazione Trionfo era qualcosa di scritto solo sulla carta. Lui l'ha presentato qui nel 2018, proprio era dicembre 2018, si vede che gli abbiamo anche portato fortuna perché sta entrando Karting Operazione Trionfo nella terza edizione. Un successo veramente senza eguali. Vero Gianluca? Sì, siamo ormai alla terza edizione, è stato veramente un successo, l'avevamo presentato qua nel 2018, mi ricordo ancora, era dicembre. Tra mille pensieri e titubanze, oggi siamo una bella realtà, siamo già la terza edizione e veramente abbiamo portato al campionato del mondo due piloti dalla strada. Questa è la mission appunto di Karting Operazione Trionfo, ma abbiamo subito delle domande. Ecco Gianluca, esatto, ci puoi un po' raccontare di più della vera e propria mission di Karting Operazione Trionfo? Ma la vera mission ve la dico in due parole, con soli 60 euro vinci il tuo campionato del mondo. Questa sembra cosiddetta in due parole, ma per due anni abbiamo portato un pilota al campionato del mondo. Questa è una grande cosa, anche perché correre un campionato del mondo ci vogliono veramente tanti, tanti soldi. Un sogno che però, grazie a Gianluca Giacchetto e a tutto lo staff Karting Operazione Trionfo, si è reso possibile. Dopo entreremo nel dettaglio e vedremo anche chi sono stati i fortunati vincitori di questo ambito e prestigioso premio. Io però prima ti vorrei chiedere, selezioni aperte in tutta Italia per poter accedere prima alle semifinali, poi al talent e poi di conseguenza alle finali mondiali. Quante piste avete coinvolto? Beh, durante gli anni tante, ma in questo particolar modo, nel 2021, la terza edizione, abbiamo ben 13 piste. Inizieremo proprio poi da Holy Kart a Roma il 13 dicembre, che è a Roma Centro, per poi far Milano a Cinesello il 20 dicembre, per cui siamo a giorni, diciamo ormai. Esatto. Stiamo iniziando a contare le ore, per poi passare per la Sicilia, per la Sardegna, per la Santa Margherita di Savoia, dappertutto. Dappertutto, insomma, 13 appuntamenti importanti di selezioni per trovare i migliori otto per ogni selezione da portare a una semifinale nazionale importante. E ragazzi, adesso tenetevi forte, quanti piloti avete coinvolto in questi due anni? Beh, parliamo di solo l'ultimo anno, 1.493 iscritti abbiamo fatto, per cui siamo attorno ai 2.000 persone ormai, i numeri sono importanti. L'impegno da parte nostra è grande, lo staff a casa che lavora tutti i giorni è immenso e sono qui anche per ringraziare loro e anche in merito loro se Karting, Operazione Trionfo, cammina ormai con le sue gambe ed è merito loro se riusciamo a presentarci a questa terza edizione così in tranquillità sul nostro progetto, visti i momenti. Ecco, Gianluca, tu non lo sai ma ti abbiamo preparato un trabocchetto adesso. Molto bene. Ti metteremo sotto i riflettori delle nostre telecamere perché non sai quello che ti sta succedendo, vero Fra? Esatto, perché per farvi capire che è un campionato veramente aperto a tutti, noi abbiamo selezionato un pilota che ha veramente un'enorme passione per il motorsport e ragazzi non sorprendetevi perché lei è una donna. Può entrare in studio Chiara Ottoni, prego Chiara. Buonasera. Buonasera, molto bene, molto bene. Ecco, ecco. Ciao Chiara. Buonasera. Sicuramente si deve mettere un po' dietro la nostra Chiara per il distanziamento che noi dobbiamo sicuramente rispettarlo. Fra, allora, la nostra Chiara sembra tutta tranquilla, vestita molto bene, ma ha un animo veramente racing. Assolutamente, sì Chiara, subito noi ovviamente abbiamo una domanda per te. Allora, diciamo che il mondo dei motori fa parte da sempre del tuo DNA. Ecco, raccontaci un po' com'è la tua storia brevemente. Allora, hai detto bene, questa passione l'ho sempre avuta, ma soprattutto negli ultimi anni, grazie anche all'acquisto della mia macchina che è una Peugeot 106 Rally che sicuramente conoscerete tutti, ho avuto modo appunto di conoscere tante persone e di entrare sempre di più nel mondo del motorsport. E appunto per questo motivo, appunto grazie a questa passione che ho, avrei delle domande da fare a Gianluca Giacchetto. Sono qui, sono qui. Ecco, vedi, vedi, c'è il trucco. Sono già qua, sono già qua. Li piacciono le macchine, è già andata in pista qualche volta, ma adesso si vuole cimentare in una vera propria gara. Allora, e quale occasione migliore di Karting Operazione Trionfo? Vai Chiara, massacralo. Allora, innanzitutto se ci sono dei requisiti e quali sono i requisiti per iscriversi? Allora, per iscriversi l'unico requisito è avere 16 anni compiuti, almeno per le due categorie primarie. Ce li hai? Assolutamente. Sono maggiorenne. Diciamo che le due categorie principali sono la Under 27 e la Over 27. La Under 27 concorre per il premio finale che è il campionato del mondo Z1. Diciamo Z1 per specificare perché è il campionato del mondo per eccellenza. Assolutamente. Mentre per la Over 27 viene dato in premio una finale internazionale che negli anni è stata la Rock Cup, la Grand Final della Rock Cup, ma modularmente per questa edizione cambieremo con una finale internazionale o della Yame o della Easy Kart. Stiamo adesso decidendo anche per cambiare, capire... Comunque sempre una finale internazionale. Di un Over è un premio elevato, grande, dalla spesa folle. Bene. Perfetto. Poi, sarei curiosa appunto, cosa devo fare nel caso per iscrivermi? Ma è facilissimo, basta andare sul sito www.kartingoperazionetrionfo.it, selezionare la pista, leggere almeno due volte il regolamento, c'è scritto proprio bene, due volte ve lo consiglio, soprattutto per la fase finale, e inserire la pista, la categoria, c'è da fare il pagamento e cliccare. Vi arriveranno a casa poi la documentazione, l'iscrizione e quant'altro. Perfetto. Ultima domanda. Quali kart si utilizzeranno? Ma allora, a tutte le selezioni si utilizzeranno i kart delle piste, e questo è importante dirlo, sono i kart a renta, andiamo a fare 13 selezioni, nelle piste da noleggio useremo i kart della pista. Alla semifinale anche, mentre per la parte finale del talent... Questi che stiamo vedendo adesso. Sì, che stiamo vedendo adesso, si useranno i kart motorsport dedicati al premio. Per la Under 27 i mezzi in versione KZ, mentre per la Over 27 ci saranno i kart di categoria, insomma gas e acceleratori, diciamo monomarcia. Perfetto. Ecco, quindi Gianluca, allora, selezioni in tutta Italia, sfide sul filo dei millesimi e vincitori regionali che poi si sono ritrovati a partecipare alla semifinale, per poi potersi aggiudicare il talent. Ecco, ci vuoi un po' spiegare come funziona questo talent di quattro giorni? Beh, il talent lo vedete poi alle mie spalle, insomma diciamo, e sono quattro giorni dove i fortunati vincitori delle due categorie si scontrano in diverse prove. Insomma, sono piloti professionisti per quattro giorni, diciamo veramente ridendo, arrivano con loro trolley, con dieci paia di mutande e di calzini, tutto il resto diamo noi. È proprio una cosa fantastica vivere quattro giorni con loro assieme, un rapporto veramente bello. Diamo totalmente noi, senza nessuna spesa, tutto a disposizione, go-kart, meccanici, pista, preparatore atletico, ristorante, tutto, senza nessuna spesa. Veramente il talent è quello che a noi ci preme tanto, è una cosa veramente importante e che dedichiamo veramente 15 ore al giorno per seguirli. Poi ragazzi, se la cornice è quella di Iesolo con il mare, insomma, ristoranti, eccetera, è ancora tutto più bello. E poi penso che anche i piloti in questi quattro giorni facciano amicizia, insomma, è veramente un'occasione unica e irripetibile nella vita, penso, non è mai successo nel mondo del motorsport. Sì, un talent del genere non è facile organizzarlo e la parte finale, indubbiamente, è la parte per noi più laboriosa. Quest'anno poi la chiusura della seconda edizione è stata un po' interrotta dal Covid, per cui abbiamo dovuto correre come matti e le selezioni, la semifinale, scusate, l'8 di agosto e la finalissima al 31, insomma, durante le ferie d'agosto a organizzare e preparare il tutto è stato veramente un tour de force veramente elevato. Velocissimamente, con quali criteri meritocratici viene selezionato il vincitore che poi parteciperà a un vero e proprio mondiale di kart? Ma, diciamo, innanzitutto, ve l'ho ricordato prima, il suo regolamento è ben dettagliato. Comunque ve li ricordo un po', una parte importante lo fa il motorsport, perché comunque, sopra lo caro, vogliamo una persona che sia abbastanza veloce. Però una grande parte lo fa la preparazione atletica, un spirito di allattamento, un livello di crescita. Durante tutte le giornate i ragazzi sono testati con una pagellina giorno per giorno per qualsiasi cosa. Io voglio la tuta. Ecco, dovete pensare che praticamente alla mattina alle 7.15 c'è la sveglia e questi ragazzi sono in mano un preparatore atletico che li fa correre in spiaggia o nei campi o fanno le prove fisiche. Insomma, la mattina alle 7.30 inizia l'operazione, è veramente dura. Alle 10 sono in pista di nuovo, prepariamo tutto quanto la parte tecnica e poi ci sfidano, sono di cronometro fino alle 5 del pomeriggio. Appuntamenti poi col simulatore, ogni sera abbiamo un partner, un nostro sponsor diverso, fino ad arrivare alla mezzanotte che vanno a letto. Vi posso garantire che l'ultima sera o la penultima già fanno fatica a fare le scale. Vi dico, per cui come dico sempre in questi due anni preparatevi perché fare professionista non è solo andare in televisione a chiacchierare. Fare professionista poi è dimostrare quando monti sopra un go-kart che funzioni. Ecco, Chiara hai sentito? Non è una passeggiata questa, ti senti pronta? Assolutamente, anzi a tal proposito volevo chiedere, so che le selezioni sono già state aperte. Sì, le selezioni sono state aperte. Vi interrompo un attimo, ne parliamo dopo perché ha delle selezioni interessate anche la nostra Franceschina Agnati. Assolutamente sì. Noi dobbiamo però andare un attimino in pubblicità al nostro rientro, rientro scusate, ancora tanto, karting, operazione. Trionfo, a tra pochissimo. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici. Perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta. Un servizio chiave in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it. La scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Il tuo sogno in pista propone a tutti gli amanti del brivido e della velocità una possibilità unica. Diventa pilota per un giorno e prova anche tu, presso il mitico circuito della Formula 1 di Monza, le performanti Lotus marchiate il tuo sogno in pista. Vuoi stupire? Acquista le gift card personalizzate del tuo sogno in pista. regalerai una giornata di pura adrenalina. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti dal giro singolo a turno in pista da 25 minuti. Per avere tutte le informazioni e le date disponibili, www.eltuosogninpista.it Il kart e marchiato karting Operazione Trionfo continua il suo viaggio verso l'ambita finale mondiale. Ecco, voi non lo sapete ragazzi, ma nella pausa pubblicitaria Chiara e Francesca hanno massacrato di domande il nostro Gianluca Giacchetto, che lo vedo un po' provato. Però, insomma, ha risposto bene a tutto, quindi vuol dire che l'interesse vero c'è per questo tuo mega progetto. Allora, abbiamo parlato di come poter partecipare del talent della semifinale, però ora ci tocca parlare dell'evento clou, ossia la finale mondiale che tu regali, metti in premio ai due migliori vincitori. Però parliamo prima del CIC FIA World Champion, ossia l'evento che tutti i piloti ambiscono, con il kart KZ1. Faccio fatico anche a dirlo perché quando te la sei studiata questa cosa? Anni di studio. Tra l'altro stiamo parlando quasi di 20.000 euro di premio. Il premio è elevato, ci ha voluto 5-6 anni per partorire questo progetto. Ufficializzo qui ufficialmente la trasmissione che uno dei nostri partner importanti per questa edizione sarà la TM di Pesaro, tramite la famiglia Flenghi, ma in particolar modo Franco Drudi, che è responsabile del reparto corse. Ci hanno dato l'appoggio totale perché il pilota che porteremo quest'anno a Cristi, a Senghisvezia, a fare il mondiale della KZ1 sarà fornito con i motori ufficiali della TM. Sì, la TM è il leader mondiale della KZ1 e ha deciso di investire su di noi e ci darà tutto il supporto tecnico che abbiamo bisogno, sia per l'avvicinamento alla tappa del mondiale che per il campionato del mondo finale. Bene, bene. Per me è un onore, un ringraziamento che faccio qua ufficialmente adesso davanti a tutti e grazie tanto. Ecco, allora Gianluca, voi mettete a disposizione una struttura da Formula 1 con bilico, ingegneri, telaisti, motoristi e la tua figura come team manager di fama internazionale con il tuo marchio storico che è la Jesolo Kart Technology, giusto? Sì, diciamo che ho iniziato questo percorso del motosport nel lontano 1986, sono passati parecchi anni ormai e un po' di esperienza non la sono fatta e ho deciso tramite questo talent di poi portarla ai piloti, soprattutto nel momento delle finali, spiegandoli e standogli vicino, affiancandoli in questo lungo percorso. Bene, ecco quindi dalla strada a un vero mondiale di go-kart con i piloti più forti al mondo. Ecco, ma una curiosità, come se la sono cavata ai vostri piloti in queste due edizioni? Ma a dire la verità, in entrambe le due edizioni molto bene. Partiamo dal primo anno, abbiamo avuto come vincitore della Under 27 Strignano, Benny, un'esperienza favolosa e ha sfiorato la finale di poco solo per una rottura di un motore. Succede in quel particolare momento, poi ho fatto io la carburazione, per cui l'ho sbagliata io. Ci sta, erano 70, mi sembra, i partecipanti all'evento e è stato così. Nella categoria over invece è successo che abbiamo fatto quinti, anzi quarti con Cogato, è stata una cosa fantastica, mentre quest'anno la Z1, il pilota Lucio Mano, ha fatto 24esimo al mondiale. Caspita! Ecco, possiamo dire di aver portato l'uomo dalla strada a essere il 24esimo uomo più veloce al mondo. Questo, sì, ci sono i dati, ci sono le classifiche, sì. Vi consiglio di allenarvi a voi due ragazze. Sì, ragazze, veramente. Siamo pronti, siamo pronti. Allenatevi perché non sarà facile poi replicare i risultati di chi vi ha preceduto. Quello, sicuramente. Ecco, questo da parte mia. L'impegno è grande e quando si arriva a quei livelli bisogna essere mentalmente a posto e fisicamente a posto. non è più un gioco. Ecco, io ho una domanda da farti, Gianluca. Allora, questi piloti della strada arrivano alle selezioni, naturalmente girano con kart rent e noi sappiamo benissimo che un kart, un KZ1, poi ha delle specifiche totalmente diverse di velocità, di impegno fisico e quant'altro. Ma prima di portarlo al mondiale faranno dei test? A parte il talent. Beh, il talent in se stesso è già un inizio di selezione. Iniziamo a capirli e verificarli. Già da subito, ormai, con un po' di esperienza che mi sono fatto in questi anni, capisco già chi ha le possibilità o no di andare avanti. e poi a parità di velocità andiamo in cerca anche dei piloti con un spirito di attamento un po' più alto, meno lamentosi, perché normalmente i piloti sono un lamento dalla mattina alle 7 alla sera alle 7. Per cui quando decidiamo di andare in guerra, vogliamo andare in guerra con l'amico, mai con il nemico. Con il soldato giusto, diciamo. Ecco, il soldato giusto si vuole. Normalmente nella falla di avvicinamento del mondiale andiamo a fare i test, andiamo a fare i test ancora più specifici nella scelta dei motori, dei materiali e via dicendo. Per il resto, insomma, i piloti li scegliamo quelli giusti e finora non abbiamo sbagliato un colpo. Ecco, questo voglio dire. Ecco Gianluca, abbiamo detto che c'è la possibilità sia per gli under che per gli over 37, gli under 27 faranno... 27. 27 e non 37, no perché mi volevo metterli in mezzo. Anzi, io non ci starei neanche dentro. Comunque, under 27 faranno il CIC FIA World Champion, gli over 27 Super Rock Final. Ma Chiara sento che qua che mi busso, perché ha bisogno di sapere. Sono curiosa. Allora, già prima avevo anticipato appunto che le selezioni sono già aperte, giusto? Sì. Quindi mi consigli già di prepararmi ad allenarmi comunque? Sì, indubbiamente sì, l'allenamento è la base di tutto. Però detto ciò, nel momento che fai l'iscrizione o che fate l'iscrizione, riceverete a casa, nello stesso momento che cliccate ok, dei buoni sconto da esercitare all'interno dei cartodromi. Questo per far sì che andate ad allenarvi a un costo un po' più basso, insomma. Questo siamo riusciti a combinare, stando anche distanti da tutte le piste, ma facendo sì che andate con degli orari un po' più giusti, che sono indicati nei buoni, andate ad allenarvi per prepararvi la selezione. Un'altra domanda, per caso ci sono anche delle ragazze? Ci mancherebbe altro, ci sono delle ragazze, in ogni selezione abbiamo sempre delle ragazze, non abbiamo ancora i numeri per fare la categoria Lady. Adesso li portiamo noi i numeri per fare la categoria Lady. Non ce ne abbiamo ancora in questo momento, però se iniziamo così la giornata, ora di stasera ne troviamo altre. Esatto, esatto. Adesso vado in centro a Milano e vediamo di combinare. Quindi cosa facciamo Gianluca? Beh, ho sentito già allora. C'è la tappa di Milano. C'è la tappa di Milano e il 20 dicembre siete invitate, siete iscritti a nome dell'organizzazione. Grazie mille. Per cui vi aspettiamo là. Chi si iscriverà a tappa di Milano, poi troverà anche la bionda e la mora presenti. Ecco, ricordiamo, tappa di Milano che si terrà? 20 dicembre a Moccar. Al Moccar di Cinisello Balsamo. Quindi sicuramente una pista storica, andate iniziato ad allenare perché sicuramente tutti i driver saranno agguerriti e poi sapendo che ci siete voi due, insomma, non potranno sicuramente sfigurare. Io ho sempre detto che dovevo nascere donna, tu a me non mi neanche calcolare. Va bene, va bene, va bene. Facciamo così, facciamo che l'ho digerita, ma hai ancora qualche altra domanda, Chiara? No. Ma... È stato esaustivo. Assolutamente, è stato ben chiaro, ho spiegato appunto tutto a perfezione, quindi non vedo l'ora appunto di partecipare. Molto bene, volevo dire a Riccardo, Riccardo abbiamo quest'anno istituito una categoria che si chiama Hobby, il nome dovrebbe dire tutto, è la tua categoria, basta avere 16 anni, dai 16 ai 99 anni si corre, è una categoria istituita nuova per far sì che magari ci sia la bionda e la mora, ma magari il papà o l'amico che va a correre fa la categoria della Hobby e vince un premio solamente due giorni di test, non sono pochi. Dai, allora la faccio. E' un premio, c'è un minimo di 90 kg, per me è preciso, te metteranno le zavorre, i kart hanno posto per le zavorre, e c'è anche questa nuova categoria Hobby che almeno se uno non vuole partecipare o sudare per un talent vero può fare qualcosa di parallelo. Vado subito sul sito kartingoperazionetriumfo.it, almeno posso fare la mia iscrizione e partecipare alla tappa di Milano, che è quella del Mocart. Bene, 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 è partita ufficialmente la terza edizione qualche giorno fa, diciamo che siete carichi, siete carichi a molla, ma andiamo a vedere un attimino il calendario velocissimamente, Fra. Esatto, e volevamo capire quante gare avete programmate in calendario e quali saranno le piste su cui si potrà partecipare. Allora, innanzitutto volevo tranquillizzare che tutta l'annata la facciamo, Covid o non Covid, eventualmente sposteremo le date. Però, visto che al momento si può girare un po' dappertutto, vi dico già che saremo il 13 di dicembre a Roma, seguiremo il 20 di dicembre a Milano, andremo poi in Sardegna il 30 e il 31 di gennaio, a Messina ai 14 su una splendida pista, Reisland, Altavilla, entrata quest'anno da noi, è una delle più belle piste in Italia, Pordenone, Torino, Santa Margherita di Savoia, Top Fuel, poi a Milano, ancora Vignate, dove voi fate sempre appuntamenti. Nuovo circuito che è entrato è Chioggia Kart, un mio grande amico che ci ha voluto onorarci della sua presenza all'interno di questo calendario. Arce, che è molto bello. Poi andiamo ad Arce, Arce è pista nuova nel Lazio, funziona e poi chiuderemo ancora a Roma, a Roma città grande come Milano, abbiamo deciso di fare due appuntamenti e anche l'anno scorso siamo stati contenti della risposta della gente. Bene, quindi da dicembre a fine marzo bisogna tenere giù il piede. Ma un pilota velocissimamente può fare anche due gare? Sì, può fare due gare ma su due piste diverse. Sì, sì, certo. Sì, perché abbiamo un format un po' particolare che leggerete nel regolamento, leggetelo bene come ho detto prima. Due volte così non avete dubbi, tutto il talent va fatto in autogestione, peso, tempi, entrate e uscite, e può farlo due volte, basta che sia sulla pista diversa. Bene, allora ragazzi, karting operazione trionfo, 60 euro e potete vincere il vostro mondiale. Mi sono avvicinato a Gianluca perché io a questa tuta gli sto facendo una corte. È fuori misura per te. Date anche tutto il merchandising, insomma non badate a spese. Ragazzi, per questa puntata è tutto. Abbiamo trovato la nostra Chiara Ottoni che rivedrete sui nostri teleschermi, grandissima appassionata di motorsport. Buona serata a tutti. E la nostra Franceschina Agnati, ragazzi. Eccomi, molto contenta di questa puntata perché veramente voglio fare questa esperienza. Perfetto. E lo dico davvero, lo dico davvero. Noi invece tra poco vedremo i nostri piloti di Simracing TV sfidarsi, quindi rimanete con noi perché partirà una gara virtuale, veramente, dal contenuto stratosferico. Grazie Gianluca Giacchetto e complimenti ancora. Grazie a voi. Questo programma è offerto da Ninivirta.it La scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Solo grano e uova 100% italiane. La pasta di camerino. Sapori da ricordare. Sapori da ricordare.it